Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Torniamo a parlare questa sera di freestyle, o meglio di slope style. L'ospite della serata è Elisa Nakab, membro del motelino freestyle di team. Elisa, grazie per aver accettato l'invito e buonasera. Grazie per l'invito. Grazie a te di nuovo. Unica donna della team targato Motolino. Sei una giovanissima, classe 1998 e dalla Francia, un paio d'anni fa, se non ricordo male, ti sei trasferita qui a Livigno per seguire la tua grande passione. Insomma, una bella avventura, un bel coraggio anche. Sì, sì, è vero che è stata una bella opportunità e non potevo rifiutare. Dunque, sono venuta qua dall'anno scorso e questo è il secondo inverno. Come ti trovi? Beh, bene. Bene, è veramente bello qua. Abbiamo delle belle condizioni. Il snow park è sempre perfetto, dunque è ottimo. Alla grande. Sei sempre stata una sciatrice oppure da piccolina hai iniziato con qualche altra attività? No, no, ho sempre fatto sci, da forse quando ho due anni, due anni e mezzo. Ho sempre sciato, poi ho fatto anche tanto ginnastica artistica, però ho preferito continuare nello sci perché nella ginnastica non ero tanta brava. Sei dunque nata in un paese di montagna? Sì, sì, sì. Abito a Serchevalier, in Francia, che sarebbe un po' nel sud, diciamo. Sì. E quindi, già da piccola, chi ti ha invogliato a praticare lo sci? Non saprei dire. Cioè, iniziando ne abbiamo fatto quando eravamo a scuola e sempre stato lì, poi con le mie amiche eravamo allo sci club e è andata così. Poi ogni tanto andare anche con i genitori, però loro non sono sciatori. Sciano bene, però. Certo. Come ti sei appassionata di una disciplina così curiosa, così bella, insomma, come è lo slow style? Quando ho smesso di fare sci alpino, diciamo, sono entrata in un club che faceva freeride e freestyle. Dunque facevamo sì un po' di freeride e mi piaceva tanto, invece il freestyle un po' meno. E poi girando un po' in parco con gli amici mi è venuta la passione, provare i trick, saltare, essere in aria, è stato... mi piace troppo. E poi le tue prime gare, presumo? Sì. Quanto tempo fa la prima volta? Le mie prime gare sono state forse cinque o sei anni fa, che erano delle piccole garette regionali, diciamo, accanto a dove abito, è stato divertente. E poi quando mi sono aggregata all'Alternative Riding Solution, lì abbiamo veramente iniziato a fare delle gare internazionali, che erano sempre un po' in Francia e anche un po' in Svizzera. Era un team grande? Eravamo in sei o sette atleti con l'allenatore e facevamo allenamenti quasi tutti i giorni e poi le gare in inverno. Eri l'unica ragazza sempre? Sì, anche lì. Sempre lì, anche lì. Sì, sì, sì. Beh, vuol dire che comunque è un buon carattere, ti adegui, ti adatti, ti trovi benissimo anche con i maschietti. Sì, sì, infatti. Poi anche loro mi spingono un po' di più, visto che sono più bravi. Dunque mi trovo bene, sì, con i ragazzi. Beh, certo, è un grande stimolo avere davanti un maschio, ti spinge ad osare di più. Sì, sì. A raggiungere magari un livello che magari non penseresti, ma avendo davanti loro puoi sfruttare la loro tecnica e tutto quanto e ti invogliano. Sì, sì, mi inspiro tanto di loro. Come sei arrivata poi a Livigno? È stata una lunga storia, che praticamente il mio club si è sciolto. Sì. E poi io mi ero anche infortunata al ginocchio, mi sono rotto il crociato. Dunque non sapevo più o meno dove andare perché dove abitavo non c'erano altre alternative per veramente fare freestyle, fare le gare così. Dunque per forza se volevo continuare a farle gare dovevo per forza cambiare posto. visto che poi ho anche la doppio nazionalità, perché mia mamma è italiana, ho detto, boh, magari trovo un posto in Italia. Infatti conoscevo Livigno perché è conosciuto nel mondo del freestyle per il snow park. E poi, contattando un po' il sporting club qua, mi hanno spiegato questa cosa del team e ho subito voluto venire qua. Beh, una grande fortuna perché veramente avete a disposizione tutto quanto per sviluppare le vostre doti, per praticare la vostra attività. Insomma, una grande fortuna. Sì, sì, è veramente una bella fortuna e una bella opportunità. Una team seguita da Dimitri Cusini, quindi avete un allenatore a vostra disposizione inverno-estate. Sì, sì, infatti, in dunque inverno facciamo solo sci, più o meno, anche un po' di palestra. E poi, sì, abbiamo anche tutta la preparazione estiva e autunna anche. Abbiamo fatto tante trasferte in ottobre e novembre per arrivare pronti per la stagione. Anche perché bisogna avere delle doti fisiche, acrobatiche, tanta esplosività, molto acute. Ci spieghi, Elisa, come si svolge la vostra preparazione, sia durante il periodo estivo e poi una tua stagione tipo durante l'inverno? Ok, allora facciamo l'estate. Io ho fatto tanta bici per avere il cardio, diciamo. Poi sì, tanti esercizi di esplosività, dunque sprint, anche tanto di equilibrio, robe per essere pronto anche a capire tanto tappetto, per imparare i nuovi trick e così. E poi sulla neve facciamo forse 4-5 allenamenti a settimana e poi facciamo anche palestra, però tranquillo. Qual è la parte che ti piace di più dell'allenamento? Forse la parte sciare, la parte acrobatica. E sì, poi anche mi piace tanto fare tappetto, questo è molto divertente. Da chi è composto quest'anno il team? Ricordaci, Elisa. Allora c'è Jan Rocca e Niccolò Cominelli. Ok, quindi ribadisco, hai davanti dei signori maschietti, quindi ti danno dei consigli? Sì, sì. Anche quando non c'è l'allenatore in park ci guardiamo sempre, ci diamo consigli e ci motiviamo assieme. Bello. Per te lo scorso anno, proprio qui a Livigno, durante una tappa, anzi due tappe di Europa Cup, il tuo primo successo nel circuito continentale. Che ricordo hai? È stato molto bello perché ho vinto dunque le due tappe di Coppa Europa che erano a Livigno e queste gare le volevo vincere perché c'erano tutti i miei amici qua e non so, era solo l'unico obiettivo. È stato molto bello, anche faceva bello, faceva caldo, dunque era veramente bello. Quali trick hai eseguito, Elisa? Avevo fatto un 360 right e un 360 left. È vero che non erano trick molto difficili, però con questo ho riuscito a vincere. Certo. E invece qual è il tuo trick migliore? Adesso mi sto allenando facendo dei corsetti, tail, e secondo me è uno dei trick più grossi, diciamo, che si fa. Riesci a spiegarcelo per chi magari non mastica troppo slope style in parole un po' più semplici? Allora sarebbero dunque un 720 che sono due giri, due giri, e poi il cork sarebbe un po' scapotato, dunque non veramente la testa in giù ma il corpo che ruota un po' così. Sì, una mezza rotazione. Sì, sì, un po' sbilanciato indietro, diciamo. Ah, ok, ok. Ricordo lo scorso anno, purtroppo, verso fine stagione, un piccolo infortunio per te. Sì, sì, è vero. Mi ero fatto una piccola frattura alla schiena, dunque è vero che ho finito la stagione un po' prima, perché ho avuto per un mese il corsetto che non ho potuto sciare. Certo. È una disciplina pericolosa, Elisa? Sì, sì, diciamo che si fa spesso male, però è pericoloso nel senso che dobbiamo essere sempre coscienti di quello che facciamo e sempre dare del meglio per non farsi male. Elisa, qual è la dote principale che uno skier deve avere? Secondo me è il fattore mentale, perché se ci sei con la testa poi il corpo segue, diciamo. Assolutamente. Penso che allenarsi in una giornata in cui non si abbia voglia sia controproducente e addirittura diventi poi pericoloso. Sì, infatti. Beh, tipo una giornata come oggi, che il tempo era stupendo, non so, non mi sentivo tanto bene, forse ero un po' stanca e ho provato comunque a girare un po'. È vero che, visto che non c'ero tanto con la testa, a un momento mi sono un po' spaventata e dunque ho detto, no, oggi non è la giornata, andrà meglio domani. Sei ancora molto giovane e vent'anni da compiere. Qual è il tuo obiettivo a breve termine, Elisa? Già mi piacerebbe vincere il circuito di Coppa Europa, che l'anno scorso ho finito seconda, perché anche non ho potuto partecipare alle ultime gare della stagione, dunque forse mi ha portato un po'. Certo, ti ha tolto punti, sicuramente. Sì, sì, sì. E poi se ho l'opportunità mi piacerebbe anche gareggiare a qualche etapa di Coppa del mondo, se ho la possibilità. Hai degli idoli, della specialità? Sì, sì, sì. Beh, ci sono tanti skier che mi piacciono. C'è Enrico Carlo, anche dei svizzeri che sono molto bravi, anche delle ragazze. Sì, sì, ci sono tanti skier che mi piacciono. Certo. Elisa, tu sei francese, ma sei mezzo sangue italiana. È diversa, secondo te, la mentalità tra i francesi e gli italiani nel mondo dello slope style? No, non penso. Penso che sia più o meno uguale, perché è sempre questo spirito di freestyle, che c'è molto divertimento, in parchi si diverte sempre. Dunque, no, quello che vivo qua a Livigno era più o meno lo stesso in Francia, dunque è sempre così. È la stessa cosa per il resto d'Europa? Oppure magari con i paesi nordici, tipo Svezia, Norvegia, Finlandia, pensi abbiano un'altra mentalità? E ti espongo la stessa domanda anche per ciò che riguarda l'America, gli americani oppure australiani, new zealandesi? Non saprei. Penso che per più o meno tutti uguali, perché anche vedendo le gare così, si divertono tutti. È veramente un sport dove, perché anche se hai un avversario che sta per partire, si incoraggia e poi sì, è sempre un bel spirito, diciamo. C'è sempre tanta solidarietà tra di voi skiers, perché insomma sapete quanto sia difficile portare a termine un trick e quindi c'è rivalità, ma soprattutto spirito di fratellanza e questa è una cosa davvero bella. Sì, sì, è proprio questo spirito che è bello. Siamo tutti più o meno amici, diciamo. Elisa, qual è stata la gara più bella secondo te della tua carriera? Non so, sicuramente penso che non l'ho ancora vissuta, perché l'unico podio che ho veramente fatto era Livigno, però penso che posso fare meglio, dunque speriamo che quest'inverno andrà meglio. Assolutamente e ti faccio davvero un grosso in bocca al lupo sin da ora. Tua madre è italiana, di dove? E di tre viso. Quindi hai parenti là? Sì, 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 ho tutta la mia famiglia, la mia nonna, i miei cugini, i zii. Ti capita spesso di andarli a trovare? Sì, 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 quando ero piccola andavo veramente spesso, adesso essendo più grande un po' meno, però proviamo sempre di una volta all'anno andare a trovarli. Bello. I tuoi familiari ti seguono durante le gare? Sì, 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 beh, io non voglio che vengono a vedermi perché mi dà più pressione, però sì, provo sempre di, gli mando foto, video, anche degli allenamenti e loro sono al 100% dietro di me. Certo, parli molto bene l'italiano, complimenti. Tua madre ti parlava italiano in casa? No, neanche, ho sempre parlato francese, solo quando andavo in Italia abbiamo fatto tante vacanze della nonna, però loro non parlano francese, ho imparato così e poi anche a scuola ho studiato l'italiano e poi passando una stagione qua all'Ivigno l'ho parlato. Quale altra lingua parli? L'inglese e basta, il francese. Insomma, direi che sei già a buon punto. Che scuola hai frequentato? Allora, ho fatto un liceo sportivo, un liceo superiore, che era vicino a Grenoble, perché in Francia il liceo è in tre anni e in questa scuola lo facevamo in quattro anni perché l'inverno avevamo tipo una settimana a mese scuola, che avevamo tanto tempo libero per sciare e anche avevamo tipo in una settimana scuola solo la mattina e il pomeriggio allenamenti con gli allenatori di preparazione atletica. E ho finito questa scuola e invece quest'anno studio all'università a Grenoble. Che cosa studi? Studio scienze politiche. Riesci a conciliare sport e studio a distanza, tra l'altro? Sì, è un po' difficile, però ce la faccio. Beh, complimenti ancora. Quando sarà il tuo prossimo impegno, Elisa? La prossima gara sarà una tappa di Coppa Europa, il 25 a St. Anton, in Austria. Come è incominciato il circuito quest'anno per te? Abbiamo fatto una prima gara a Caprun in dicembre, una Coppa Europa, però è stata abbastanza difficile perché le condizioni meteo erano brutte e sì, io ho avuto difficoltà a sciare in questa gara. Quante gare di Coppa Europa ci sono nel circuito stagionale? Mi sa che ce ne sono più o meno cinque. Non conosco bene il calendario. Quindi non molte chance per poter vincere questa Coppa. Sì, sì, infatti. Dunque, per quello che questa gara a St. Anton sarà importante. Dopodiché nel mese di febbraio ci saranno le Olimpiadi, porte chiuse per te? Eh sì, purtroppo sì. Però le guarderò a casa. Avrai la possibilità in un futuro di tentare la qualificazione sia per l'Italia che per la Francia, avendo il doppio passaporto? Adesso, prima ero con la... gareggiavo per la Francia e da quest'anno ho cambiato, sono con l'Italia. Dunque sicuramente se avrò opportunità sarà con l'Italia e, non so, vedremo tra quattro anni. Com'è il movimento italiano femminile? C'è l'unica donna che è sul circuito è Silvia Bertagna, che è molto brava, ha vinto una tappa di Coppa del Mondo l'anno scorso. Purtroppo lei si è infatta male al ginocchio fine stagione scorsa, però adesso è tornata e va bene, dunque speriamo per lei. È una grande rappresentante, sì, molto forte. Quindi un bello stimolo per te eventualmente se dovesse ormai aprirsi per te le porte della nazionale. Sì, sì, sì. Sarebbe veramente bello allenarmi con lei e anche con la squadra. Che cosa fai Elisa nel tempo libero qui a Livigno se ne hai? Vabbè, vado a sciare quasi tutti i giorni, poi quando sono a casa provo a studiare almeno una o due ore e poi anche la sera provo di andare in palestra e poi vedere anche i miei amici ogni tanto. Insomma, una giornata intensa. Sì. Qual è la materia scolastica che meno ti piace? Che meno mi piace è la filosofia, perché è un po' difficile capire tutto e sono dei ragionamenti un po'... Filosofici. Ecco, filosofici. Mentre quella che più ami? Mi piace tanto la geopolitica, che adesso studio geopolitica dell'Asia e interessante. Beh, direi di sì l'Asia poi in questo momento, che è così in fermento. Quale paese del mondo non hai ancora visitato e ti piacerebbe appunto visitare? Oh, tanti. No, mi piacerebbe tanto andare negli Stati Uniti e poi anche in Australia o Nuova Zelanda. Beh, insomma, posti in cui il circuito di Coppa del Mondo a volte ci capita. Dunque, forse più tardi avrò l'opportunità di andare, speriamo. Siamo in una conclusione, Elisa. Ti ringrazio di cuore. Ti auguro una buona stagione e un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. È tutto per questa sera. Grazie per la cortesia attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.